Buon giovedì a tutti! Oggi è il primo dicembre, sono le 10 spaccate e ho il sentore che sarà una splendida giornata. Perché? Non perché il sole bacia tutti, ma per il fatto che sul MIB siamo andati sopra che cosa? Sopra i 24.803 punti. Abbiamo fatto con questo spike questa mattina i 24.837 e quindi abbiamo vincolato tutto il resto del supposto settimanale inverso a salire. Ed è appena partito il quinto settimanale inverso probabilmente da questo massimo, stiamo aspettando conferme ma siamo abbastanza lì. Chi è che vi raccontava circa due settimane fa che c'era un rischio di bear trap e che si sarebbe potuti continuare a salire e non avremmo ceduto e tutti volevano andare short? Ok. Quello che tra poco non vede più niente se è al sole in faccia. In ogni caso, su MIB questa è la situazione. Quindi che cosa faremo come di consueto? Cercheremo di vedere dove è partito il terzo T-3, il terzo ciclo giornaliero. Potenziale candidato questo ma 23 giorni? Però rimaniamo qui oppure cercheremo attraverso il nuovo T-3 di vedere se può esserci stata una chiusura a 44 barre, poi un raccordo e poi la partenza del secondo T-3? Possibile. Inizio a spostarmelo qua, mi metto un salva e ci rifletto. Anche perché devo controllare l'entità dell'eventuale raccordo. Notate però che con questa discesa di ieri, poi rimbalzo, eravamo pronti a scendere perché a quanto eravamo di quarto ciclo giornaliero inverso, a 28 barre. Quindi la gente sospettava, vista la scarsa forza di salita tra le ultime due barre, di magari iniziare ad andare finalmente a scendere. E invece cosa succede? Boom! Apriamo con le notizie forse relative agli Stati Uniti e alla decisione dei tassi che come sappiamo non impattano se non nel breve. Con un'aspettativa già da due settimane che ci possa essere sempre un rischio di una bear trap tutte le volte. E tutte le volte vi avevo avvisato, guardate che se torniamo qui sopra c'è ancora tempo. Cosa vi dicevo negli ultimi due video oltretutto, guardate che qui abbiamo lateralizzato ma non sta andando giù. Se torniamo sopra questo massimo, cosa succede? Ve lo ricordate? Uno, due, tre, quattro, cinque. E succede che a meno che qui non si sia in dodicesima candela, la vedo dura per adesso, e qui c'è ancora un vincolo, si può ancora salire, per quanto tempo però? Se questo è ancora il nostro mensile, siamo al 42esimo giorno, su 43 può fare ancora una candela verde domani, può ancora fare una spike verso l'alto, un massimo assoluto, ma deve poi essere successiva una candela rossa che faccia iniziare una discesa per la partenza perlomeno di un nuovo mensile inverso. Tutto già detto nelle scorse puntate. Qui avremmo da questo minimo, tra l'altro, il tempo e magari lo swing per far partire un nuovo mensile? E sì, altro che se ce l'abbiamo, su inviolato, tempo, minimo sei giorni, sopra un minimo, e poi se si va a fare un massimo e si inizia a scendere e si vincola tutto un mensile a scendere, parte magari non soltanto un nuovo mensile inverso, ma anche un semestrale, un annuale inverso. Tutto come detto nelle scorse puntate. Attenzione perché tempo comunque ne abbiamo di annuale inverso. Può ancora succedere che vogliano ancora fare male a chi ha provato ad anticipare troppo di short. Quindi continuiamo a mantenere la prudenza, continuiamo a raccontarci di quando andremo long, quando andremo short, a seconda degli swing, volumi e tempo ciclico che avremo. Per quanto riguarda il DAX, qui per un soffio non ci siamo vincolati, poi candelone rosso indietro, eccezionale, cioè aprono in gap up, fortissimo di fuga, poi candela rossa, poi candelona rossa. Si rimangiano buona parte del rimbalzo fatto. Fenomenali. Sono veramente bravi a fare male ai trader. Ai trader che non hanno un piano, non hanno un programma che va avanti da due settimane sapendo che c'è costantemente il rischio di tornare a salire. Bear trap. In tanti conoscono solo la bull trap, perché magari fanno trading da qualche anno e soltanto sulle crypto. Io no. Io lo faccio da più di 25 anni, quindi. Per cui, cosa facciamo oggi anche su DAX, che è ancora più semplice da vedere? Uno, anche qui controlliamo se c'è una sorta di raccordo e quindi la partenza del terzo, non secondo T-3, secondo ciclo giornaliero e partita da qua. Vediamo se ha voglia di ritracciare e poi a un certo punto di rimbalzare o sulla media mobile a 200 periodi oppure su un livello di algoritmo. E poi valutiamo se può avere senso andare long, perché qui non c'è vincolo. Qui non c'è niente. DAX vuole iniziare ad anticiparsi rispetto al MIB? Non lo sappiamo. E' più comodo fare trading sul MIB, dove se da qui è partito il quinto T-3 inverso, se volessero farci un minimo ancora di discesa, e comunque abbiamo già una, due, tre, quattro, cinque barre sopra questo massimo, appena torneremo qui sopra noi continueremo ad andare long, perché ci siamo vincolati a rialzo, il settimanale vincolato a continuare a salire. E noi abbiamo avuto da qui la conferma che sia partito un altro settimanale, che non si sia ancora su questo partito qui, che abbia fatto così e così, ne abbiamo violati di swing quando siamo andati così in basso. Di potentissimi. Quindi qui do per buono la partenza del quinto ciclo settimanale inverso e per buono il vincolo, ribadendo il fatto che qui siamo già stati per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barre sotto questo massimo e che da qui può essere partito già un mensile inverso, vincolato a rialzo. Ne parleremo nel gruppo premium. Per intanto vi ringrazio per il vostro tempo, se l'analisi vi è piaciuta mettete un bel like, buone riflessioni, è importante questo momento e fate attenzione a non sbagliare al verso di dove vi mettete. Arrivederci.